Dunque, quali sono i... come è fatto un convertitore di Cdc e quali sono gli usi, i casi d'uso principali? In realtà, il convertitore di Cdc serve un po', forse il tipo più comune di convertitore di potenza. Chiaramente si passa ad una sorgente continua a fornire una tensione continua e il caso d'uso più frequente è quello degli alimentatori in continua. dell'elettronica portatile, in cui c'è bisogno di distribuire tensioni continue internamente al sistema, al piccolo apparecchio, quindi non solo per l'alimentazione generale, ma anche per la distribuzione dei vari livelli di tensione che servono internamente, un po' classicamente anche per l'alimentazione di motori elettrici in continua. a cui poi dedicheremo un po' di spazio in particolare. Dove sta in un alimentatore, il convertitore di Cdc? Sta in questa posizione, vedete? In pratica, se ho... sta in questa posizione, quindi se ho un sistema da alimentare e a destra e parto dalla tensione di rete, l'alternata a monofase o trifase, bassa tensione, per esempio la 220 che arriva a casa, di solito di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno prima di un raddrizzatore e di un filtro, a termine del quale otteniamo una tensione continua non regolata e poi da là, con convertitore di Cdc, otteniamo la tensione continua regolata. In alternativa, se l'alimentazione non viene dalla tensione di rete ma viene da una batteria, c'è il problema simile. La tensione che fornisce la batteria tipicamente non è regolata perché è un... non è regolata perché cambia a seconda del livello di carica della batteria non solo, ma poi tipicamente la batteria fornisce corrente con una resistenza d'uscita abbastanza elevata per cui spesso ho bisogno invece di una resistenza d'uscita bassa parte riesca a ottenere attraverso un connessatore messo in parallelo alla batteria che in pratica abbatte l'imperenza d'uscita della batteria però poi ho bisogno di un convertitore che funzioni anche dal regolatore di tensione. La posizione tipicamente è questa il carico può essere un apparecchio elettronico qualunque un sottosistema dell'apparecchio elettronico e un... oppure un motore elettrico. Dunque, a seconda del tipo di uso ci sono diversi tipi di convertitore diciamo architetture di convertitore che esaminiamo a un certo livello di dettaglio non uniforme in realtà. Sono in questa lista qua io credo che i primi due già li conosciate il primo convertitore è step down step down vuol dire in abbassamento quindi la tensione di uscita è più bassa della tensione di ingresso si chiama anche buck è un convertitore che usa un'induttanza per l'accumulo di energia il convertitore boost invece è uno step up cioè dà una tensione di uscita regolata più alta della tensione di ingresso non regolata il buck boost è un misto tra i due dà una tensione di uscita di segno opposto a quella di ingresso il cook fa lo stesso e poi full bridge è tipicamente adatto al controllo di motori elettrici in pratica è in grado di fornire una tensione sia positiva sia negativa e di erogare o assorbire corrente quindi consente una erogazione o un assorbimento di potenza come si dice a 4 quadranti quindi con tensioni positive e negative e anche correnti positive o negative dunque adesso noi cominciamo dal primo e cerchiamo di esaminare in dettaglio il funzionamento e gli aspetti un pochino di secondo ordine nel senso che il funzionamento di base l'avete già visto io lo richiamo brevemente anche perché probabilmente un po' di tempo è passato ma comunque lo richiamo soprattutto per quello che mi serve per imbastire un discorso un pochino più come dire completo allora partiamo dallo step down allora il concetto è quello di effettuare una conversione attraverso una modulazione pulse width quindi ad ampiezza dell'impulso qual è il concetto? è piuttosto semplice per fare uno step down in pratica immaginate di avere una tensione d'ingresso Vd come è rappresentata in figura e di voler fornire sul carico una tensione minore V0 come potete fare? potete fare una modulazione di PWM di ampiezza dell'impulso quindi fornendo la tensione intera Vd oppure una tensione nulla utilizzando quell'interruttore in pratica quella che fornite a carico è una tensione che avrà un valore medio intermedio tra Vd e 0 e il valore esatto dipenderà dal duty cycle dell'interruttore d'accordo? in pratica che cosa abbiamo? se guardate V0 immaginate lì abbiamo rappresentato un periodo TS è il periodo quella S sta per switching quindi il tempo di switching il periodo del 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 comando di switching che utilizziamo durante la semionda positiva sul carico questa Vo è la tensione che c'è sul carico è pari a Vd durante il periodo di spegnimento T off è uguale a 0 perché il carico è abbandonato quindi chiaramente il valore medio sarà Vd per T on diviso la somma di T on e T off che è il periodo di switching quindi in base al rapporto tra T on e TS cioè il duty cycle dell'onda voi avete potete variare con continuità il valore medio della tensione applicata sul carico questo è il meccanismo di funzionamento del step down detto in termini essenziali chiaramente questo è un ragionamento di principio nella pratica bisogna capire come fare allora ragioniamo facendo un insieme di assunzioni ragioniamo supponendo che i switch siano ideali gli interruttori ideali le capacità e le induttanze siano senza perdite quindi anch'esse ideali e che la Vd la tensione di ingresso venga da un generatore di tensione ideale quindi senza impedenze interne e anche che il carico sia completamente resistivo che è l'ipotesi che stiamo facendo cerchiamo di rimanere prima nell'ambito di queste ipotesi che il ragionamento viene più semplice quindi siamo in condizioni totalmente ideali e il carico resistivo cosa c'è che non funziona nel ragionamento che ho fatto non funziona il fatto che in pratica il carico è induttivo e quindi lo spegnimento dell'interruttore non è pratico perché quando spengo l'interruttore il carico induttivo vuole continuare ad essere attraversato la corrente da qui era attraversata la corrente non può andare subito a zero si causa una sovrattenzione sul carico che può tipicamente disturbare o causare danni quindi devo risolvere il problema legato dall'interruzione istantanea della corrente l'altra cosa che in realtà devo considerare che va bene avere una tensione media come dire controllabile a me ho bisogno di una tensione continua ok quindi bisogna cercare di rendere più continua la tensione che arriva sul carico allora questo è abbastanza facile perché per arrivare da un'onda quadra a una tensione continua sul carico ci vuol poco basta inserire un filtro il filtro passa basso e invece devo trovare il modo di non interrompere completamente la corrente che passa nel carico la cosa si ottiene completando il circuito in questo modo vedete in pratica che cosa ho fatto ho inserito tra l'interruttore che c'era prima e il carico un filtro passa basso LC perché ho messo un filtro LC passa basso perché ha il vantaggio aggiuntivo di non dissipare potenza immaginando che la L e la C siano ideali il filtro non dissipa potenza attiva quindi questo filtro come sarà fatto? beh questo filtro ha una frequenza di taglio che è 1 su radice di LC come è facile da verificare quindi dovrò fare in modo che la frequenza di taglio 1 su radice di LC su 2 qui greco ovviamente sia molto minore della frequenza di switching in modo che praticamente passi soltanto la continua va bene? quindi avevo in questo nodo un'onda quadra qua mi trovo soltanto la componente continua che è la stessa di prima l'altra cosa è cercare di risolvere il fatto che il carico è induttivo e quindi fare in modo che passi la corrente anche quando voglio che questa tensione sia nulla la cosa mi viene abbastanza semplice perché mi basta mettere un diodo in questa posizione qui si chiama anche flyback diode un diodo in posizione flyback che consente vedete la corrente passa così quando l'interruttore è spento eh scusate quando l'interruttore è on quando l'interruttore si apre l'induttanza e il calco continuano a chiamare corrente e la corrente passa attraverso questa direzione attraverso il diodo che entra in conduzione quindi la tensione su questo nodo non sarà esattamente zero ma sarà un circolamento v gamma che manda in conduzione il diodo prima approssimazione posso considerare il diodo ideale e metto questa tensione a zero va bene quindi questo garantisce continuità nella corrente che passa nell'induttanza e di conseguenza nel carico va bene quindi questa è la situazione va bene non ho da aggiungere altro va bene allora vediamo quantitativamente com'è il funzionamento e guardiamo un po' la tensione che c'è sull'induttanza allora quando l'interruttore è chiuso sull'induttanza c'è una tensione che è Vd meno Vo giusto? quando l'interruttore è aperto sull'induttanza c'è meno Vo perché questa trascura la V gamma del diodo d'accordo? quindi rispetto a quindi switch on la Vl è Vd meno Vo quando il switch è off la Vl è uguale a meno Vo d'accordo? voi sapete ovviamente che la tensione ai capi dell'induttanza è proporzionale alla derivata della corrente quindi io da questo posso ricavare la corrente nell'induttanza questa è la tensione sull'induttanza è la Vl vedete in pratica abbiamo detto questo è il switch on e questo qui è il switch off quando il switch è on la tensione è Vd meno Vo quando il switch è off la tensione è meno Vo quindi questo è l'andamento della tensione sull'induttanza ovviamente posso calcolare la corrente la derivata della corrente perché è uguale alla tensione diviso l'induttanza quindi quando siamo netti on quindi il switch è on la derivata della corrente è Vd meno Vo fratto L quindi la corrente che è questa vedete sale quando il switch è off la corrente chiaramente scenderà perché la tensione applicata è meno Vo quindi D su Dt è meno Vo su L e quindi la corrente scende quindi questo è quello che succede nel periodo e a questo punto io posso imporre un'altra condizione che la corrente all'inizio di ogni periodo sia uguale quindi la quantità di cui è salita la corrente in una semionda sia uguale alla quantità di cui è scesa nell'altra quindi cosa devo prendere questa derivata per T on deve essere uguale col segno meno alla derivata nella semionda negativa per T off ok questo è già cosa ovvia lo impongo che è questo quindi aumento durante T on caluta durante T off la somma dei due con segno deve essere nulla e questo posso ricavare la relazione che c'è tra T on T off Vd e Vo sapendo che T on più T off deve essere uguale a T s questa cosa qui devo ricordarmi la somma del T on e del T off è uguale al periodo dell'onda questo mi viene una relazione proprio banale perché viene in pratica vedete per ottenere da questa la relazione successiva mi devo ricordare che L ed L si semplifica meno Vo T on meno Vo T off fa Vo per T s e quindi trovo questa relazione ok allora la cosa è comoda perché a questo punto che cosa trovo che il rapporto tra la tensione d'uscita e la tensione d'ingresso è il duty cycle e questo lo sapevo tra l'altro lo sapevamo già dall'inizio ho trovato una cosa che in realtà sapevo già che si riesce a ricavare anche uguagliando la condizione delle correnti non è cambiato niente rispetto al sistema più come dire idealizzato che avevo fatto all'inizio allora questa è una cosa che già avevate visto ok allora vi faccio notare che questo è un caso molto particolare del funzionamento di un convertitore step down perché è caso che è indicato nel titolo è caso di conduzione continua perché che cosa sta succedendo sta succedendo che in pratica l'induttanza conduce sempre la corrente nell'induttanza è sempre più elevata di zero va insomma gira intorno a questo valore medio Iz Io che non è nient'altro questo valore medio Io sarà valore medio quindi sarà Vo fratto la resistenza del carico d'accordo qual è il perché è importante non vedere soltanto questo caso perché specialmente se voglio realizzare dispositivi di conversione a basso consumo devo fare in modo che questi dispositivi consumino poco quando il carico non assorbe corrente allora vedete cosa succede se il carico non assorbe corrente per qualche motivo questa scende e può benissimo succedere che durante la discesa la corrente vada a come toccare l'asse delle ascisse cioè vada a zero va bene in realtà questo è un punto critico perché chiaramente il diodo non fa più passare la corrente il diodo fa passare la corrente soltanto nella direzione positiva se la corrente tende a scendere sotto zero il diodo taglia e la corrente non ha più quest'onda triangolare ma un'onda tagliata in basso ok quindi siamo e quella è la situazione di conduzione discontinua perché l'induttanza non è sempre attraversata della corrente ok quindi questo è il disegno della situazione che vi stavo facendo vedere questa è la corrente vedete se cala la corrente media assorbita dal carico si può avere questa situazione questo è il limite della conduzione continua quando il vertice inferiore della corrente è esattamente zero in quel punto il diodo stacca insomma siamo al limite d'accordo se la corrente media scende ancora chiaramente questa descrizione qui non è più adatta ripeto questa situazione è particolarmente importante perché vogliamo essere una situazione in cui si riesca a poter erogare anche correnti trascurabili ad avere un dispositivo che assorbe solo un sistema che assorbe solo un certo dominio e non assorbe in generale se volessimo sempre rimanere in una situazione di conduzione continua dovremmo comunque far assorbire una corrente minima a carico e quindi avere un consumo anche quando non è strettamente necessario allora vediamo qual è il limite tra la conduzione continua e quello discontinuo e cosa succede in condizione discontinua dunque allora noi abbiamo valutato questa quantità cioè la ampiezza picco picco della corrente perché era uguale alla variazione derivata la corrente per t on mi dà questa variazione di picco chiaramente qual è il limite di conduzione il limite di conduzione è quando la corrente assorbita media è uguale alla metà del picco quindi questa condizione va bene allora a questo punto posso definirla i di picco già la conosco e che l'abbiamo già vista insieme e vediamo in che condizione quanto vale i di picco diviso 2 il limite di conduzione continua allora i di picco è uguale a v di d meno vo fratto l che è la derivata della corrente nell'induttanza in t on per t on questo è il delta i e chiaramente diviso 2 va bene a questo punto si tratta di come dire calcolarla meglio in funzione del duty cycle allora qui che cosa ho fatto t on è uguale al duty cycle per t s vo è uguale al duty cycle per v d quindi qui viene d t s per v d per 1 meno d fratto 2 l quindi vedete il limite della conduzione continua è funzione di queste variabili quindi a parte le variabili fisse della v d d del duty cycle e del della frequenza come posso fare a questo punto posso rappresentare questa ilb vedete questo grafico in funzione di d c'è un termine d per 1 meno d quindi viene una parabola che è massima quando d è uguale a un mezzo e poi chiaramente 0 sia quando d è uguale a 0 sia quando d è uguale a 1 quando d è uguale a mezzo è massima e vale questa quantità ilb max facile da vedere quando d è uguale a un mezzo d per 1 meno d vale un quarto e quindi questa ilb max è come vale un quarto per 1 su 2 l fa 1 su 8 l per t s per v d questo è il valore massimo che tra l'altro è quello che è segnato qua allora ricapitolando che cosa che cosa vi ho trovato adesso vi ho trovato qual è il valore della corrente d'uscita in funzione di d per la quale abbiamo il limite di conduzione continua sotto la conduzione discontinua sopra la conduzione continua d'accordo cos'è perché lo facciamo in funzione di perché d mi determina il rapporto tra l'uscita e l'ingresso d è la tensione d'uscita rispetto alla tensione d'ingresso è l'elemento che mi consente di regolare la tensione d'uscita il duty cycle d'accordo qui è corretto farlo in funzione di quella quantità d'accordo allora ricapitolando il ragionamento che abbiamo fatto finora che ci dice che la tensione d'uscita è il duty cycle per la tensione d'ingresso va bene e che ci fa vedere quell'andamento della corrente nell'induttanza è valido in un regime particolare che si chiama conduzione continua e cioè è valido se la corrente media nel carico supera questa quantità cioè se è sempre positiva nell'induttanza d'accordo quindi giriamo un attimo la situazione rappresentiamo questa cosa qua la VO su Vd quindi immaginiamo di lavorare a Vd costante Vd è imposto e vogliamo vedere la tensione VO rappresento qua il rapporto tra VO e Vd in funzione della corrente nel carico va bene e per comodità la corrente nel carico è normalizzata rispetto alla ILB massima cioè la corrente media massima della curva di prima questo è semplicemente una costante di normalizzazione conveniente però niente di più quindi questo è l'andamento che abbiamo quindi chiaramente quando siamo in conduzione continua la tensione di uscita dipende soltanto dal duty cycle quindi vedete quando il duty cycle è 1 la tensione di uscita è uguale alla tensione di ingresso quando il duty cycle è 0,5 la tensione di uscita è 0,5 per la tensione di ingresso però questo vale soltanto in questa regione quando siamo qui dentro valori di corrente inferiore a questa parabola che avevo disegnato prima siamo in conduzione discontinua e quindi il duty cycle che ci vuole per ottenere una certa tensione di uscita non è più lo stesso dobbiamo trovare la relazione ok quindi questa qui vale in un caso particolare che è questo regime allora ripeto il motivo per cui stresso questo comportamento è perché nella pratica il funzionamento in modalità di funzionamento discontinuo è molto frequente quindi non come dire non è utile guardare solo la parte più facile perché l'altra parte è comunque altrettanto comune allora vediamo in particolare che cosa succede dunque come è fatta la corrente nell'induttanza ecco questa è la corrente nell'induttanza in modalità discontinua quindi c'è una fase in cui l'interruttore è chiuso questo è t on che è uguale a d per t s come prima poi c'è una fase durante il quale l'interruttore è aperto durante la fase in cui l'interruttore è aperto ci sono due situazioni differenti quindi questa è quella che si chiamava t off va bene però durante t off la corrente scende c'è una prima fase in cui la corrente scende il diodo conduce e la corrente nell'induttanza comunque passa poi in questo punto la corrente nell'induttanza arriva a zero il diodo non fa la corrente andrebbe in questa direzione se il diodo non impedisse il passaggio quindi il diodo fa portare a zero la corrente che passa nell'induttanza qui non c'è mai discontinuità della corrente però c'è questo tratto in più allora quindi per comodità il tempo t off lo spezziamo in un intervallo che si chiama delta 1 per t s e un intervallo che si chiama delta 2 per t s quindi d più delta 1 più delta 2 complessivamente fanno 1 fa tutto il periodo però abbiamo bisogno di introdurre quest'altro elemento allora come ecco no mi conviene spiega un attimo perché qui c'è scritto motor drive adesso stiamo facciamo un ragionamento avd continua avd costante cioè immaginiamo che questa avd sia costante e che noi variamo la vo modificando il duty cycle va bene questa è una situazione che si ha tipicamente per il controllo di motori perché nel controllo motori quello che facciamo è esattamente quello noi come dire modifichiamo la coppia e la velocità del motore cambiando la tensione continua che gli forniamo quindi abbiamo una vd costante che viene data da una batteria o da un alimentatore e modifichiamo la tensione che amplichiamo al motore e chiaramente il modo di modificarlo è cambiare il duty cycle se si abbassa molto il duty cycle a un certo punto si arriva a una situazione in cui si passa dalla modalità continua a una modalità discontinua vediamo che cosa succede allora la corrente di picco cioè questa corrente qui chiaramente possiamo ottenerla in due modi con la rampa a salire o con la rampa a scendere con la rampa a salire quindi è vd-vo diviso l che è la derivata della corrente per dts che è il tempo quindi questo è guardando la rampa a salire l'altra alternativa è guardare guardando la rampa a scendere la pendenza è v-vo su l con segno meno ovviamente per il tempo che è delta 1 t-s quindi le due quantità sono uguali possiamo chiaramente semplificare l di qua l di là t-s t-s e vedete riusciamo a trovare come dipende v-vo da v-d in funzione di d e di delta 1 insomma quello che si trova è una cosa facile si vede che v-vo su v-d è uguale a d diviso d più delta 1 chiaramente esplicitando semplificando qua e esplicitando v-vo tiro fuori questo chiaro un passaggio semplice ok quindi qui siamo a questo punto chiaramente noi non sappiamo che relazione c'è tra d e delta 1 e questa la dobbiamo trovare ancora ok questa ce la deve dare il il resto del delle considerazioni vediamo che cosa dobbiamo notare ancora allora qui che cosa abbiamo fatto abbiamo preso v-vo da questa relazione sostituito qua dentro anzi a questo punto più comodamente sostituito qui dentro in modo da scrivere id picco in funzione di v-d vedete se sostituisco questo qua dentro mi viene v-d d per d per delta 1 fratto d più delta 1 è la denominatore ts numeratore quindi ho preso v-o da questa parte e l'ho messo qua dentro perché scrivo in questo modo perché così ho la corrente di picco in funzione di v-d che è una costante d'accordo? vado piano piano perché insomma è giusto comodo averlo scritto insomma così rimane il passaggio anche voi però poi se no si perde il filo allora siamo a questo punto passaggio successivo prendo questa quantità qui se divido per l e moltiplico per l questa roba qui è quella che avevo chiamato ilb max quindi questa è una quantità costante rispetto alla quale ho normalizzato la corrente quindi è semplicemente una comodità nella scrittura niente di più in questo momento ok ecco e poi per finire questa considerazione questa è diversa qui sono qua questa qui che cosa mi dice la corrente media chiaramente questa è la corrente che passa nell'induttanza la corrente che passa nel carico è la componente media dopo essere stata filtrata dal filtro LC quindi chiaramente però la carica complessiva deve essere la stessa quindi io per TS che è questa area va bene va bene la corrente media per TS deve essere uguale all'area sottesa da questo triangolo che è uguale a la corrente di picco per la base che è D più delta 1 per TS diviso 2 perché è l'area del triangolo ok questo questo mi dà il valore medio della corrente il valore medio della corrente devo prendere l'integrale della corrente nel periodo e dividerlo per il tempo del periodo quindi chiaramente questo va via con questo e quindi il valore medio è questa quantità a questo punto raccolgo tutto facciamo raccolgo tutto che cosa ho fatto ho preso questo l'ho messo qua dentro quindi l'8 si semplifica col 2 qua mi viene un 4 questo qui va via con questo mi rimane soltanto D delta 1 TS era già andato via vedete quando sostituisco questo va via con questo il 2 va via con l'8 mi rimane un 4 mi viene 4 ILB per delta 1 che è questa roba qua e poi a questo punto al posto di questo qua vedete da qui vado qua cosa ho fatto moltiplico tutto per D in questo modo e al posto di delta 1 per D ci metto io ho diviso 4 ILB e questa è la relazione finale qui dove voleva arrivare qui dove voleva arrivare allora con cos'è che dovete confrontare questo dovete confrontare con l'espressione che avevate in conduzione continua in conduzione continua VO su VD faceva D era solo proporzionale al duty cycle in conduzione discontinua aveva un'espressione più complicata bene vedete che in pratica il duty cycle che mi serve per ottenere una certa tensione d'uscita è funzione anche della corrente d'uscita quindi mi viene una espressione più complicata che mi serve per rappresentare la curva di VO su VD in funzione di IO anche nella regione interna alla parabola d'accordo quindi ricapitolando avevamo due situazioni di funzionamento la conduzione continua in cui la tensione di uscita è uguale a quella di ingresso per il duty cycle per qualunque corrente ok se però la corrente media diventa più bassa di un certo valore ok si passa a una modalità di funzionamento discontinua e a quel punto la dipendenza della tensione d'uscita dalla tensione di ingresso viene più complicata che in questa espressione non più semplicemente d quindi se torno al grafico di prima lo chiudo in questo modo vedete quindi fuori questa in continua abbiamo che VO su Vd dipende da D e non dipende dalla corrente ho queste linee orizzontali molto semplici che in pratica corrispondono a quello che c'era e a quello che c'è sull'asse dentro questa curva sono in modalità di funzionamento discontinuo chiaramente tutte le due curve si devono raccordare per al limite di questa curva quindi quando sono per correnti inferiori a questo valore vale la relazione che abbiamo appena trovato la relazione che abbiamo trovato come è fatta insomma si vede abbastanza bene se la rappresento in funzione di i ho delle iperboli va bene e non solo si vede abbastanza bene che quando i ho tensione di uscita tende a 0 queste tendono tutte a 1 quindi la tensione di uscita tende a essere uguale alla tensione non regolata di ingresso quindi le curve tendono tutte sono tutte degli iperboli che tendono ad andare verso questo punto qua ok quindi questa è la curva completa ripeto ancora una volta questa curva è fatta a Vd costante che è segnata anche qui immaginando quindi che la Vd sia un parametro fisso e completano di fatto la cosa che avete visto finora tenendo presente che un convertitore di Cdc passa una frazione di tempo lunga in modalità discontinua soprattutto se è a basso consumo che tipicamente basso consumo si ottiene molto modulando fortemente la corrente erogata e quindi spesso erogando poca corrente quando non serve quindi quando si eroga poca corrente si finisce facilmente nella regione interna alla parabola va bene un ragionamento simile si può fare a Vd costante qual è la situazione di Vd costante? tipicamente è la situazione di un alimentatore quando uso un convertitore di Cdc per un alimentatore io voglio che la tensione di uscita sia costante quindi quello che cambia è la corrente che assorbo ma voglio sempre la stessa tensione è tipo anche semplicemente l'alimentatore del telefono ha bisogno di una di una tensione 5V costante a prescindere dalla corrente assorbita allora in questo caso il limite va visto un po' diversamente perché bisogna consigliare questa quantità costante allora com'è che ragioniamo di nuovo ragioniamo in questo modo dunque per vedere il limite della conduzione aspettate faccio un disegno qua un attimo allora qui mi fa comodo la curva della corrente vedete ecco prendo guardo il limite della conduzione continua qui questo intervallo qui era TS per 1 meno D il T off e questa è la corrente di picco e la in questa regione qui la derivata della corrente rispetto al tempo è meno VO su L quindi qui cosa faccio VO su L è la derivata per TS per 1 meno D è il tempo quindi questa quantità è la corrente di picco diviso 2 mi dà il valore medio perché se l'onda è triangolare il valore medio è la metà del picco quindi questo è quello che mi dà a questo punto se tengo VO costante e non più VD la relazione che mi viene è diversa perché tutta questa quantità per me è il valore massimo che può avere la corrente media e la chiamo ILB max quindi qui ho ILB max per 1 meno D il duty cycle interviene soltanto in questo modo non ho più una parabola come avevo prima ma una retta va bene ripeto le cose sono cambiate perché adesso sto considerando VO fissa tensione di uscita imposta va bene allora detto questo questo è al limite fuori dal limite della conduzione continua la corrente di picco è uguale a questa adesso sono in questa situazione quindi questo qui è D per TS questo intervallo qui è delta 1 per TS va bene questa quantità è la corrente di picco adesso VO su L è la derivata della corrente per il tempo questa è la variazione totale della corrente che è la corrente di picco d'accordo quindi questa posso scriverla una volta che ho definito ILB max come VO per TS fratto 2L come 2 ILB max per delta 1 quindi questa no soltanto una come dire cosa di comodo aspettate per questo filo che adesso se finisco il ragionamento la slide poi allora questa è la situazione poi a questo punto metto insieme dunque il valore medio questa l'avevo già trovata prima è I di picco per D più delta 1 fratto 2 che è come dire l'integrale della corrente nel periodo diviso il periodo mi dà il valore medio della corrente a questo punto la scrivo di nuovo in funzione di questo parametro di normalizzazione se volete quindi al posto di di picco scrivo 2 ILB max per delta 1 il 2 va via con questo 2 e mi rimane ILB max per delta 1 per D più delta 1 questa qua l'ho scritta di lato perché l'avevo già ricavata e chiaramente mi rimane a questo punto posso usarla per ricavare l'ultima relazione che è questa vedete da qui divido per ILB max mi viene delta 1 per D più delta 1 a questo punto posso scriverla in modo più più diciamo in modo che mi elimina la dipendenza da delta 1 vedete che cosa ho fatto lo dico qua lo scrivo in questo modo Vd su Vo è uguale a 1 più delta 1 su D e quindi se ho delta 1 su D posso scriverlo come Vd su Vo meno 1 quindi vedete qua per arrivare da qui a qua che cosa ho fatto ho diviso per D e ho diviso per D e ho moltiplicato per D quadro questo D quadro mi capita qui questo delta 1 su D mi diventa questo e questo qua mi diventa questo d'accordo? d'accordo? a questo punto posso esplicitare D nella relazione questo è un passaggio automatico ho semplicemente tirato fuori D allora che cosa ho adesso? adesso ho un'espressione che mi lega direttamente D a queste quantità come la devo interpretare? beh la Vo è fissata la Vd è determinata dall'esterno è la corrente che varia quindi a questo punto io so qual è il valore di D che devo avere in funzione della corrente che deve erogare per Vo fissato e Vd fissato d'accordo? ci fermiamo qua così la prossima volta esaminiamo questo risultato con quello che abbiamo trovato no questo risultato semplicemente però ci fermiamo lo guardiamo la prossima volta va bene